Entra nel vivo a Taranto la partita legata alla formazione della nuova giunta comunale. La squadra di governo, stando ad indiscrezioni, dovrebbe essere pronta non prima dei prossimi 15-20 giorni. Un passaggio questo legato ad un altro snodo fondamentale, ossia la chiusura dei conteggi da parte dell'ufficio elettorale presieduto dal giudice Ciro Fiore. Stando a quanto preso, lo spoglio sarebbe fermo a 90 sezioni su 191. Il sindaco insomma vuole avere nel dettaglio la mappa precisa e definitiva della composizione del Consiglio Comunale. Detta in altri termini, vuole sapere con esattezza chi entra in Consiglio e chi sono invece i primi dei non eletti di ogni partito. Solo a quel punto potrà avviare i ragionamenti tra le varie forze della sua variegata maggioranza. Eppure qualcosa trapela già, come il nodo dell'Equaterosa. Su nove assessori Stefano vuole almeno tre donne. I nomi, stando in indiscrezione, sarebbero quella di Donatella Duranti, esterna di Selle, che però dovrà vedersela con la rivendicazione degli eletti. E poi per il PD, la perilliana Teresa Chiatante, l'ex assessore all'istruzione Anna Rita Lemma. Tutte e tre si giocano la poltrona da vice, come pure Piero Bitetti, il primo degli eletti PD, e l'esterno perilliano Scarcia. Tra le forze alleate anche l'Udc si aspetta una postazione nella squadra di governo. Ambizione ed attese le nutrono sia i consiglieri che i primi dei non eletti. Poi oltre alle legittime pretese del PD c'è il partito del sindaco SDS. Stefano per ora non si lascia scappare i nomi, anche se appare quantomeno scontata la riconferma in giunta dell'assessore uscente Alfredo Spalluto. In attesa di un cenno ci sono anche Jonathan Scasciamacchia e Franco Cosa. La partita è aperta.